nuovo giorno, siamo sovraesposti qua, perché siamo sovraesposti? ah posso fare il... aspetta, guardami, hallo 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 haus berlin, questo volevo farlo, sì ma siamo sovraesposti, vabbè, vabbè nazi, volevo solo fare questo, dunque oggi prendiamo... we are taking it easy, perché questo qua è vecchio, e comunque cavolo sembra che ci sia un sole da paura, vabbè va bene, magari il fatto di avere questi cerchi da centrare che venga fuori, ah poi arrivi qui, poi lo apri un'aura potentissima oh ecco, ah! Senti diacche balli, mipissimi! prego? rola Grazie a tutti Vai Come al solito mangiamo Non dobbiamo notare i suoi capelli La scena sempre deve andare con i due con il posto La scena è fatta La scena è fatta Ah, è bella cosa Buongiorno. Comunque, siamo arrivati alla fine della vacanza. Ancora domani mattino, a 6.00. Vabbè, dimerito in persone di Berlino. Berlino, dai, per essere una città polacca è abbastanza sviluppata. Purtroppo, est europea... Ti verranno a prendere. Ti verranno a prendere. Un po'... Eh, c'è poco... Poca povertà. Può essere, appunto, dell'est Europa. Molti edifici alti. Carina. Ti verranno a prendere. Sembra buona. Si finisce così.